Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma è entrata una barbona? Non la so, non la so, ma non la so. È entrata una barbona? Signora, non può... Francesca, qualcuno mi dà una mano. Signora non può stare qui, stiamo lavorando. Deve uscire gentilmente, prego. Ma non la so, non la so. Signora deve uscire gentilmente se ne vada, per favore. Ho mandato un foglietto, ho mandato, non ce l'ha messo, c'è qui dentro. No, non ce l'ha messo, qui stiamo facendo dei provini per una pubblicità, se ne deve andare, per favore. Ho fatto una fila, ho fatto. Qui di fuori, non ce l'ha messo, non mi date da mangiare. Ce l'è un panino, una roba. Non molesti il pubblico, sia gentile, se ne vada, signora. Non ce l'hai un cracker. Me la porti fuori, per favore. Bravo. Vada fuori, signora, per favore. Ti sei mangiato il frigo, te ti sei mangiato. Signora, vada fuori, per favore. C'hai una banana, c'hai te da darmi. Non molesti il pubblico, se ne vada, per favore, se ne vada. Non mi spingere che ti... Davvero, eh, con quel frigo lì dietro. Non lasciamo, non lasciamo. Ma mi fanno entrare nel barcone? Non c'hai niente, un pezzo di carne, niente. Se ne vada. Signora, nella borsa, lei non tiene niente, non tiene. Se ne vada. Vi siete mangiati tutto quanto, vi siete mangiati. Sti fari. Se ne vada. Non lasciamo. Signora, non c'abbiamo più niente da mangiare. Non lasciamo, non lasciamo. Adesso mi chiamate la produzione, però, eh. Non lasciamo. Non mi spingere, però, eh. Ma che roba. Gentilmente, se ne vada, grazie. Grazie. Si fa, ho fatto una fila, ho fatto un panino, una roba, non c'è una bananina. Non c'è niente, se ne vada, se ne vada. No, però. Non lasciamo, non lasciamo. Non lasciamo. Chiamala, polizia. Va a chiamarla, polizia. Signora, deve uscire, grazie. Ma chi parla? Signora, deve uscire, grazie, due. Chi è che è parlato? Sono io, sono il regista qua sotto, ci siamo appena incontrati qua sotto. Dove? Signora, deve uscire, tre. Ma non lasciamo, non lasciamo, non lasciamo. Non lasciamo, ha mandato, ha mandato un foglietto, ha mandato. C'è bisogno di mandare via la gente così, c'è bisogno di mandare via. Seguo quello. Ma se faccio il provino, mi prendete, mi date due soldi, mi fate, mi fate mangiare, mi fate. Devo andare via così? Sì. Eh no, pure le favoline no, però, eh, raga. Non lasciamo, non lasciamo, non lasciamo. Va bene, racconti le favoline e se ne vada poi via. Posso raccontare le favoline, posso raccontare? Sì, signora, basta che poi se ne vada. Parare il pelone e l'uovo. Era nella favolina lì. È quel personaggio tutto ruffo e buffo che sta nella favola della cosa, dai. Come si chiama adesso? La cosa, dai, quella che sta con cosa. Cosa, dai, quello, cosa, giù, quello che c'aveva quel negozio, laggiù, in fondo allo stradone, tutto di baciaccoli, la cosa, dai, la cosa, quella busona di cenerentola, dai. Che dis che si è messa col principe azzurro, ma, l'ha avuta, l'ha avuta il principe azzurro. Lo so io, lo so. Botte, acqua fresca dalla mattina alla sera. Ma adesso dis che l'ha buttato dentro a lui. Meno male, che ogni tanto la giustizia fa il suo giusto, fa, fa il suo giusto, fa il tuo, 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 fa il tuo. Era anche lì quando, dis che hanno trasformato la carrozza in zucca. Che dis che dentro c'è una ceneritola, che limonava duro con biancaneve. Dice che facevano un lavoro, si è tristato anche il pelo dell'uovo, si è tristato. Non lo so, ma non lo so. Che era, era anche lì l'amico del, quello, cosa dai, Pinocchio, quello tutto di legno. Dice che gli è venuta una dermatite, forse di stare con sto pelazzo nell'uovo. L'hanno buttato in quarantena, l'hanno buttato. Non lo so, non lo so. Pianco l'uovo, che dopo poi, beh, dis che hai aiutato lì ceneritola a venire fuori dalla carossa. Che anche lì era tutto un buttasù di roba, l'ha tirato fuori. Cosa lì, dai? Sti nomi maledati. Cosa, dai, quello che stava con cosa? Ha fatto un'orgia lì con i sette nani, ha fatto. Il gatto con gli stivali, il gatto. Che paretto, dice che un bel momento la cosa, ceneritola, l'ha portato lì, nel gattile l'ha buttato. Ah, che, deve essere riconoscente, va a far del bene te, va a far del bene, lo so io, lo so. Ma non lo so, 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 non lo so. Bene, signora, grazie per noi, può andare. Ah, con chi è venuta qua? È venuta sola o accompagnata? Ma accompagnata? La mia amica. La cosa. La cosa, dai, quella che sta con cosa lì. Ancora. La cosa, dai, quella mia amica, quella secca, alta lì, quella sbiadita. La signora colorita, mi ha portato qua, dentro una macchina, ci abbiamo messo 6-7 ore, ma che lei ha due o tre bagli occhi, ma io non so più niente, non so. La colorita. Ma andiamo giù, che ti porto io in un posto che dici che si mangia. Non c'è niente da mangiare qui, non c'è niente da mangiare, non c'è niente. Non c'è niente, per noi può andare, grazie e arrivederci. Ma ho detto che a Roma erano antipatici, ma proprio come la merda attaccata sotto le scarpe, proprio. Non lo so, non lo so.